Bella raga e benvenuti in questo nuovo video. Molti di voi si saranno chiedendo ma dove si trovano questi monumenti del cubo Kevin? Ora in questa guida vi farò vedere dove si trovano. Allora, il primo cubo si trova al sud ovest di Palmetto, dove è nato il cubo Kevin. Si trova esattamente in questo punto della mappa. Ecco, ora ci troviamo a spondi del saccheggio. Il monumento del cubo Kevin non è situato al centro di spondi del saccheggio, ma ovvero in questa parte di erba qua. Eccolo qua. Ecco, queste sono le zone in cui si trova il cubo Kevin. Beh ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video. Un bel pollicino in su, iscrivetevi al canale e te la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!